Era il maestro del colore, della luce, della vitalità prorompente. Non ci poteva essere altro protagonista di questa esperienza culturale che racchiude e coinvolge tutti i sensi. Dal 24 marzo le opere di Caravaggio sono protagoniste di un'imponente videoinstallazione a Roma. Immagini gigantesche che ci permettono di scoprire meglio l'artista secentesco e di capire il modo in cui utilizzava modelli, soggetti e composizioni. Grazie a 33 proiettori ad altissima risoluzione e definizione apprezziamo particolari inediti. Con l'ausilio della tecnologia più avanzata assistiamo alla creazione passo per passo di 57 capolavori noti in tutto il mondo. Caravaggio Experience, progetto elaborato con la consulenza di Claudio Strinati, offre la regia di Stefano Fomasi, le musiche originali di Stefano Sadetti e persino l'Essenze del Tempo, ricreate dall'Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella. Il visitatore non è più di fronte al quadro, ma entra nell'opera intera e nella storia di Michelangelo Mirisi. I dipinti vengono scomposti, appaiono e scompaiono e per 50 minuti particolari invisibili ad occhio nudo prendono vita. Un percorso che parla di luce, naturalismo, teatralità, violenza ed attraversa aspetti e facce dell'esistenza di uno dei maestri più tormentati e straordinari della storia dell'arte. Fino al 3 luglio al Palazzo delle Esposizioni, poi in autunno Caravaggio Experience si sposterà a Napoli.